Sentivo che parlavate di me, allora volevo chiedere anch'io al mitico Enrico se poteva veramente recuperare la foto di quando ho fatto quel rigore maledetto che ho sbagliato e poi come diceva anche il Paolone, soprattutto quando sono andato a recuperare la palla e l'ho rimessa lì sulla linea di porta per fare il rinvio. Grazie Enrico, grazie a tutti, ciao, 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 ciao.